Ben tornato! Mi hai lasciato a Boston! Il tuo addestramento è già a buon punto. Ma l'esperienza è la migliore maestra. Che ne è di mio padre? È sparito, temo. Dobbiamo trovarlo! E lo faremo, dopo che avremo riparato la casa. Ma è là fuori a complottare chissà che cosa! E cosa intendi fare quando lo troverai? Sì, lo troverai. Sei un ragazzo, è poco che ti addestri. Lui è un uomo adulto con anni e anni di esperienza. Se vuoi avere qualche possibilità contro i Templari, ti servono queste. Forza prima che cambi idea. Chi? Non c'è tempo! Seguitemi! E' laggiù! E' passato ora sotto il ponte! Sì, 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 Sì. Aiutatemi! Presto! Aiutatemi! Presto! Aiutatemi! Presto! Saracoli! Aiuto! Aiutatemi! Presto! Saracoli! Aiutatemi! Aiuta! Questo idiota sta cercando di dirvi che è in debito con voi, signore. Chi sarebbe l'idiota? Tu perché lo sei? Che facevate con questi tronchi? È uno dei rischi del mestiere. Siamo accampati nei boschi qui vicini. Tagliamo legna. Vorremmo costruire un mulino nella zona. C'è un buon posto non lontano dalla casa sulla collina dove abito io. Mi stai già simpatico. A fare fatto! Mi mancheranno pace e quiete, ma di certo il legno ci sarà utile. La casa richiede molto lavoro. Già, e non soltanto. Vediamoci alla capanna sulla spiaggia quando hai un po' di tempo. C'è qualcos'altro che devi vedere. Che cos'è? Una... risorsa. Batteri! Hai capito? Non capisci la lingua del re? Non ti avevo visto, vecchio. Avrei messo un po' in ordine se mi avvisate. Guardavi che venivi. Il ragazzo si chiama Connor. È qui per restaurare la proprietà. Restaurare? Restaurare! Scusa per prima. È ancora la più veloce dell'Atlantico. magari con qualche ritocco. Ma niente di grave. Un po' di olio di gomito e volerà di nuovo. Chi è lei? Chi è lei? È l'aquila, amico. Lo spettro dei mari del nord. La barca. Cosa? Una barca? È una nave, amico. Vedi di ricordartelo. Il ragazzo non era qui per sistemare un po' di cose. Questo non ha mai messo piede su una nave. Connor, ci rivediamo a casa quando avrai finito qui. Dici che gli servono riparazioni? Sei in grado? Le servono e come? La nave è femmina, amico. Eh sì, la posso sistemare, ma mi serve il materiale giusto. Il buon legname, tanto per cominciare. Ci penserò io. Quanto ci vorrà perché... lei... possa tornare in mare? Tu pensa al legname, ragazzo. E io penserò alla ciurma. Ah, eccoti qui. Devo mostrarti una cosa. Vieni, guarda qui. Che cos'è? Un registro. Serve a gestire gli affari della tenuta. E questi? Eh, sono passati anni. Prima della brucellosi. Prima dei Templari. Prima che tutto crollasse. Eh, ma è acqua passata. Meglio concentrarci sul nostro futuro. Prendi il libro mastro e ti mostrerò come funziona. Che, grazie. Cosa solle, waiting. Vi chiara a porta per tem美味 aір un po' noi, abbiamo una loca, Ma non era, ska ma sent lefta,